Arezzo, seconda provincia in Toscana e ventesima a livello nazionale nella classifica della qualità della vita, stilata come ogni anno da Italia oggi in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. La provincia retina, rispetto all'anno precedente, ha guadagnato ben 13 posizioni, passando dal 33esimo posto al 20esimo. A livello regionale la provincia di Arezzo si è posizionata dietro solamente a Siena, che resta però ancora ben lontana, quarta dopo Bolzano, Trento e Belluno. Il badisco che sono dati statistici, quindi vanno sempre presi con le moglie, analizzati a fondo e capito effettivamente come sono stati interpretati, però sicuramente questo dato ci conforta e ci riempie di gioia, segno che evidentemente nella nostra provincia si sta bene, segno che il comune capoluogo, che sicuramente fa da traino rispetto a tutta la provincia, sta seminando bene e sta raccogliendo i frutti di anni di investimento. Quindi da parte dell'amministrazione comunale c'è gioia nell'apprendere che a livello nazionale Arezzo è percepita come una delle migliori città. Siamo al 20esimo composto nella classifica generale, ne abbiamo scalati diversi, siamo la seconda provincia nella Toscana dopo Siena e quindi evidentemente questo ci fa ben sperare per il futuro. Ci sono alcune cose sicuramente perfettibili, siamo abituati a stare molto bene ad Arezzo, i nostri concittadini e noi stessi siamo abituati a vivere in un'isola felice rispetto al panorama italiano. Tutto sommato, tuttavia, ci sono alcune cose che sono perfettibili, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a lavorare per garantire servizi e sicurezza al top per i nostri cittadini.